Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video e dunque la Juventus batte l'Inter ai rigori e vince il campionato italiano under 17 femminile e insomma una bella stagione per le ragazze di Mister Diana, una bella stagione iniziata con un campionato ricordiamo che quest'anno hanno fatto un girone unico Nord Italia e la Juventus è arrivata a seconda in questo girone pareggiando tra l'altro due partite con l'Inter e insomma l'Inter vinse questo girone, la Juventus è arrivata a seconda e poi c'è stata questa fase finale con un quarto di finale non morbido, anche la Juventus ha reso morbido battendo il Verona 6-0 e 2-2 pareggiando Torino e ho vinto a Torino, adesso non mi ricordo, comunque ha vinto sicuro 6-0 a Verona comunque trovate il video anche di questo quindi e poi in semifinale ha battuto il Genoa 4-0 e oggi si è trovata in questa appunto finale dove ha battuto l'Inter ai calci di rigore insomma ed è una bella rivincita, una bella rivincita perché l'anno scorso gli Under 15 femminili arrivarono seconda al campionato italiano proprio perché persero la finale Scudetto contro l'Inter ai calci di rigore ora l'Under 15 sono cresciute, sono diventate Under 17 e hanno portato a casa lo Scudetto battendo l'Inter ai calci di rigore insomma una bella rivincita dall'anno scorso e insomma adesso i campionati giovanili entrano tutti nel vivo oggi dovrebbe esserci la semifinale Juve-Atalanta per quanto riguarda l'Under 17 ora al quarto di finale comunque gioca l'Under 17 con l'Atalanta insomma le partite ci sono e come l'Under 16 si è qualificata invece alle fasi finali insomma quindi ripeto i campionati giovanili stanno entrando nel vivo e la Juventus praticamente in questo momento ha mancato l'accesso alle fasi finali con la primavera maschile e con l'Under 15 che è uscita con la SPAL tutte le altre attualmente sono ancora in gioco quindi è una come sto dicendo in questo momento è campione d'Italia quindi un titolo giovanile che mancava da due anni l'anno scorso non vincemmo praticamente nulla a livello giovanile titoli femminili lo vincemmo due anni fa quando appunto la Juventus alzò il titolo di campione italiano di tali campioni italiani Under 15 maschile però questo titolo Under 17 femminile è molto importante anche perché è la prima edizione del campionato di questa categoria e questo lo rende ancora più prestigioso e importante ragazzi chiudo qua questo video dunque Juventus batte l'interi rigori ed è campione italiana Under 17 femminile ripeto un titolo giovanile che mancava da due anni perché lo scudetto giovanile l'ultimo l'anno scorso non vincemmo niente due anni fa appunto vincemmo il campionato Under 15 maschile ragazzi chiudo qua questo video sperando ovviamente di poter fare altri video di festeggiamenti con la Juventus che possa vincere altri titoli di campioni italiani giovanili chiudo qua e fino alla fine forza Juventus